Gli educatori del progetto Crescere che Avventura si sono trovati all'Istituto degli Innocenti per conoscere l'archivio storico e preparare i laboratori con le classi di Ivrea, Matera, Monza e Salerno. Dopo la visita all'Istituto degli Innocenti, alla mostra Figli d'Italia e all'archivio storico, li abbiamo intervistati. Quello che più mi ha colpito della visita al Museo degli Innocenti è stato un documento relativo a un padre che ricercava la sua bimba, avuta in un rapporto extra coniugale, ma nel momento in cui stava per avere il contatto con lei, la bimba purtroppo era ormai morta. Il grado di organizzazione che già a quell'epoca c'era nel tracciare il percorso di ogni singolo bambino che passava dall'Istituto degli Innocenti e poi anche la rete di contatti che c'era anche con una certa estensione sul territorio circostante Firenze che consentiva di collocare questi bambini in diverse situazioni a seconda un po' di un percorso di vita che si immaginavano dall'Istituto degli Innocenti che questi bambini potessero fare. Quindi veramente una serie di misure che ci sono parse molto moderne. L'impressione, ho avuto dei numeri elevati che la finestra accoglieva, perché parliamo addirittura di 2.000 bambini all'anno, quindi 7 bambini al giorno. Questa è la prima cosa che mi ha colpito e il numero elevato di bambini che venivano accolti qui all'Istituto degli Innocenti. L'altra cosa che ho trovato interessante è stata anche l'idea che poi è maturata nel Novecento di dare un sostegno alle madri nubili, che è un'idea che poi ricorre anche nella contemporaneità, anzi che spesso viene pesantemente criticata in quegli stati in cui c'è un sistema di welfare un po' magari più presente di quello che c'è in Italia. Quindi i paralleli o i paragoni che si possono fare tra il presente e il passato sono molteplici. Addirittura quando un bambino che era stato affidato a una famiglia e viveva bene nella famiglia affidataria, veniva distrutta questa serenità costruita all'intento di questa famiglia per colpa di un litigio tra genitori dove il sindaco del paese, mi sembra il sindaco del paese, per una ripicca contro il padre affidatario di questo bambino scrive all'Istituto degli Innocenti negativamente del padre, ma questo si scopre purtroppo solamente dopo, perché il ragazzo nella seconda famiglia affidataria non viveva bene e quindi riesce a scappare e aggiungere nuovamente alla prima famiglia affidataria. Ti colpisce per la quantità di documenti che contiene e che sono tantissime. Pensare che poi ogni documento è una vita ti lascia senza fiato, che è un po' anche la cosa che ha colpito di me di più della mostra, proprio le storie singole di questi bambini che arrivano così all'Istituto degli Innocenti. La storia che più mi ha colpito in questa mostra è la storia di alcune mamme che abbandonavano il loro figlio nell'Istituto e poi venivano pagate per allattare a pagamento figli degli altri. Se non fosse che questi bambini abbandonati non abbiano potuto essere avvantaggiati da questo piuttosto che rimanere in famiglia in grossa difficoltà. Poi certo, ogni storia è diversa dall'altra, una storia può finire bene, può finire male, ma un'opportunità come quella di un bambino che non ha nulla, che invece viene data a lui dopo un percorso o con delle finalità educative in un'altra famiglia per imparare qualcosa, un mestiere in campagna, vivere forse in un ambiente anche sano a volte, forse nella minoranza delle storie che abbiamo visto, però fa sicuramente riflettere. Si riconosceranno in molte storie di cui c'è traccia e di cui abbiamo saputo. Avendo noi una quarta superiore di un istituto professionale a indirizzo servizi sociali, il lavoro che faremo quasi sicuramente sarà quello di andare a lavorare su questi raffronti tra passato e presente, partendo dal passato probabilmente per arrivare a quella che è la situazione attuale dando quindi alla classe la possibilità di approfondire molto quello che è il sistema di accoglienza nel campo dell'affido e delle adozioni, facendo poi una parte anche probabilmente di puericultura perché questo è un interesse che loro hanno e una cosa che possiamo collegare molto facilmente anche ad alcuni elementi della mostra. Far pensare anche sul rapporto che deve comunque essere importante con i loro genitori perché poi tornare indietro non è sempre possibile, può essere tardi, può diventare troppo tardi. Per alcuni appunto c'è stata una forma di riscatto sociale e questo ci fa pensare anche al nostro territorio salernitano, qualche quartiere più degradato, più difficile in cui da famiglie difficili anche i nostri ragazzi salernitani possono pensare di poter vivere una vita migliore. Un'altra cosa interessante invece è vedere all'interno, esplorare all'interno dell'archivio i numerosi fascicoli, le felse, giusto? Le filse, le filse, le numerose filse messe proprio una accanto all'altro e sono proprio innumerevoli i fascicoli presenti all'interno dell'archivio dove raccontano numerose e disparate storie vissute qui all'interno dell'istituto. Mi sono venute in mente alcune idee, sicuramente Troll mi pare uno strumento che possa avvicinare a un utilizzo magari responsabile di Facebook o di altri social network, posso avvicinare soprattutto i piccoli che ancora non hanno dimestichezza con questi strumenti. Mentre Ripplemarks è un esperimento che mi ha sembrato molto interessante e mi ha quasi fatto venire voglia di provare con i ragazzi a costruire un blog ma anche molto limitato, anche per uso interno, in realtà di qualunque tipo semplicemente per comunicare qualcosa, per far comunicare qualcosa ai ragazzi che magari non hanno tanti canali, tanti strumenti e opportunità per farlo. Si potrebbe riflettere proprio su quello che è il senso anche di maternità che poi le ragazze eventualmente proveranno in futuro e far riflettere proprio su quello che potrà essere perché non è una cosa semplice, non è una cosa da prendere troppo alla leggera. Grazie a tutti.